Ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovo video di Sant'Evato e Giorgio, e grazie a quest'oggi Trofferemo un truffatore, questo truffatore mi ha truffato in precedenza e adesso noi faremo finta di giocare normalmente Che vogliamo scambiare normalmente, faccio finta che non ci sia successo niente, ma invece lo trufferemo Perché lui è un truffatore nato, ci ha truffato, merita il truffamento e noi gli daremo il truffamento Siamo dei giustizieri Finito il momento di dramma, lo invitiamo e se lo volete spammare di invidia a lui, Jordan Se non accetta lui, abbiamo a disposizione un altro truffatore Ovvero Non è online, perfetto, che devo chiedere online Il truffatore è Dark2Jordan Invitiamolo nel gruppo e lo trufferemo Se entra perchè è un bimbaccio Vai, entra, voglio un cacca, che si baserà in cosette, se neanche tipo nella lobida Dai, voglio entrare Oh, una volta che voglio truffare un truffatore Dai, io non truffo mai Non entra il truffatore È un bene, ma il ciccicocco Si è messo offline Il truffatore è Lui Eccolo Non era offline È proprio qui Il truffatore dei truffatori chiamiamo di invitati se non entra se non entra ho un'idea se non entra ho un'idea per far entrare ovvero questo mi fa se non entra ora io non so che fare guarda quanto sto spammando e se invece con il joystick faccio il spam che succede oh 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 Mario stai calmo e vabbè joystick non va perfetto vabbè ragazzi ovviamente non è che faccio 7 minuti di video a farvi vedere che spammano i biglietti vi volevo dire se vi potevate iscrivetevi al canale e di lasciare like e di condividere perché io voglio diventare uno youtuber però non ci riesco quindi se voi date il vostro contributo secondo me io potrei riuscirci quindi se per favore lo potete fare vi fate un grande favore vabbè 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 comunque vi farò vedere le mie armi nella casa base non ve ne potterà sicuramente niente però io ve li faccio vedere comunque se io vado su almeria io ho questo questi progetti qua però non li posso fare perché non lo so non lo so io questo se metto raccogli scompare quindi non lo so proprio guardate ragazzi tipo io voglio prendere questa roba qua la ciaviglia se metto raccogli guardate ma scompare scompare non ti cosa fa niente scompare guardate tipo ricicla qua tipo ricicla vuol dire che tipo io la prendo no? ok non succede niente perfetto ricicla? io ti vedo qua metto ricicla? cosa succede? qua ricicla? no ricicla? no ricicla? no raccogli vai mettiamo raccogli che succede? vai 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 raccogliamo raccogliamo vai questo potenzia arma livello confronto livello perfetto qua raccogli raccogli perfetto questa raccogli perfetto questa raccogli ma perfetto mamma mia raga sto facendo una polizia totale delle mie armi perché ok ok ricicliamo così l'abbiamo direttamente nell'inventario io non so tanto io salvo il mondo perché ci gioco da poco tempo però mio amico mi ha giusto un po' d'armi quindi non lo so comunque ricicliamo tutto così abbiamo tutte queste belle armi nel nostro bellissimo inventario bellissimissimi raccogliamo tutto perfetto raccogli così mamma mia quanta armi che ho mamma mia adesso avrò tipo un sacco di armi nell'inventario raga 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 è crashato dove? è crashato? ok adesso avrò tutta la ok adesso avrò tutta la oh sei di armi ah ma sono ma si sono andate a nascondere qua mamma allora va bene dai che ci stanno ah ragazzi queste sono le mie armi tutte queste sono le mie armi dopo queste sono le mie cose inutili queste sono le mie azioni trappole e ho uno di minerale di collucenta queste sono tutte le mie armi sono tutte belle armi mi ha dato un mio amico se voi volete darmi armi per aiutare a crescere il canale e per aiutarmi a finire Night Savva il mondo io mi chiamo TheBadGeorge e compare il nome nell'intro compare il nome nell'intro quindi se andate all'inizio del video si vede quindi andate all'inizio dell'intro e la vedete se non capite comunque il nome è questo qua TheBadGeorge da me ragazzi da me è tutto vediamo l'ultima volta se entra questo povero ragazzo questo povero ragazzo se non entra stiga eh non scherzo ah c'è James Robert che è anche un truffatore quindi non lo so però è mio amico quindi non vorrei truffarlo dopo c'è James Pietro che è anche un truffatore però c'è tutti i truffatori stanno in sto gioco anche Stefano Anco un truffatore tutti i truffatori stanno un gioco tanto bello sono tutti i truffatori vabbè ragazzi io vi ho fatto vedere l'inizio delle armi però non vi ho fatto vedere il magazzino ma il magazzino il problema è che manco ce l'ho quindi sparo con il super trinciatore e faccio non nove alle pietre ventuno quindici ventuno ventuno però io avevo un'arma a 133 e me l'hanno truffata quindi ragazzi vi prego se avete armi in più vi prego datemene a me non ne farò brutto spreco a me le armi servono perché queste armi non le ho fatte io queste armi me le hanno date effettivamente a me non voglio fare la parte di quello che non ha niente però non ho davvero niente quindi se per favore voi mi potete dare un po' di armi mi fate un grosso piacere se avete salvato il mondo dopo non lo so quindi ragazzi a me è tutto iscrivetevi al canale attivate la campanellina quindi vedete il video e niente ragazzi alla prossima e volevi ovvio che non che non è entrato quel bimbo molti servici un altro duffatore no 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 qua devo fare un video a parte